Ringrazio Junior Achievement per questo premio, anche per la generosità con la quale si prodiga per i nostri ragazzi e per le nostre scuole. Io credo che servano molta generosità, apertura, competenza per aiutare i più giovani non soltanto a costruire il loro futuro, ma anche il loro presente. Possiamo farlo tutti insieme e Junior Achievement ci aiuterà sicuramente a farlo.